Basta lezioni online, basta solo immaginare il momento in cui finalmente davanti a un pubblico vero potremo cantare i nostri pezzi preferiti, quelli che ci riescono meglio o quelli che abbiamo studiato per tanto tempo e vorremmo debuttare in teatro. È giunta l'ora, torna dall'area all'audizione dal 9 al 18 luglio su Lago Maggiore, meraviglioso posto dove una squadra di docenti sarà a vostra totale disposizione, potrete approfittare di noi e rubarci tutti i saperi che riguardano la vostra consapevolezza fisica, la vostra consapevolezza teatrale, scenica, interpretativa e tecnica. Ognuno di noi a totale vostra disposizione. Dall'area all'audizione dal 9 al 18 luglio. Vi aspettiamo!